allora questa è la ripresa di prova della samsung e s9 risoluzione 640 x 480 vedete adesso non tiene fuoco mi devo allontanare insomma la resa video non è il massimo inquadro adesso a due foto da me realizzate cercando di insomma molto lenta la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco nel massimo